A 14 anni ho subito il mio primo stupro, ma in realtà le violenze sono iniziate prima, perché lo stupro e il femminicidio sono semplicemente la punta dell'iceberg. Lei è Alessandra Desiderato, una ragazza di Bari attiva nel sociale che in questi giorni ha maturato il desiderio di liberarsi di un macigno che portava con sé da troppi anni e lo ha fatto attraverso il suo profilo social pubblicando una serie di video che hanno scatenato reazioni e commenti. Il racconto di Alessandra comincia nell'inverno del 2014, quando la giovane studentessa barese ricorda di aver subito violenza durante una gita. Alessandra parla per sé stessa, spiega, ma anche per tutte quelle ragazze che subiscono abusi di ogni genere, affinché si faccia qualcosa per eliminare una volta per tutte quella cultura dello stupro tipica del sistema patriarcale, dice. Ho deciso di condividere ora la mia storia, perché mi ha veramente colpito come i media in questi giorni continuano a parlare di che era proprio un bravo ragazzo, ma come è possibile? Nessuno se lo aspettava. Ma non è così, perché in quanto donne viviamo ogni giorno la violenza sulla nostra pelle. Non c'è una donna che non abbia subito violenza da parte di un uomo. La violenza ha tante forme, sono più gravi o meno gravi per la società, ma sulla nostra persona, sulla nostra pelle, sono tutte gravissime. Perché ogni giorno quando camminiamo per strada, vivevamo delle sensazioni che un uomo non potrà mai provare. Il racconto di Alessandra arriva dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, la giovane 22enne di Vigonovo, nel veneziano, uccisa dal suo ex fidanzato e a pochi giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Raccogliamo le sue parole perché l'obiettivo di Alessandra è far sentire meno sole tutte quelle ragazze a cui questo messaggio può arrivare.